Premiare il riordino istituzionale, quando questo comporta una gestione più efficace dei servizi, è un risparmio di soldi pubblici. È questo l'obiettivo dei contributi stanziati per le unioni dei comuni emiliano-romagnoli più virtuose, 15 milioni di euro assegnati ai vari enti del territorio attraverso un bando pubblicato a luglio. Di questi fondi, 7,5 milioni arrivano dallo Stato, 8 dalla Regione. Le erogazioni hanno premiato in particolare gli sforzi compiuti dai comuni per l'allargamento e lo sviluppo delle unioni. Al netto dei 3 milioni riservati in base alla legge e al bando alle sole unioni montane, il fondo è stato ripartito sulla base del numero e della consistenza delle funzioni gestite, della popolazione, del territorio e del numero di comuni, ma anche in base all'effettività economica della gestione delle funzioni. A ricevere più denaro in Romagna è stata l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, 750 mila euro, seguita dalla Romagna Faentina, 709 mila euro. Ricco il Bottino anche per i comuni della Romagna Forlivese, 633 mila euro. Alla Valle della Savio sono andati 470 mila euro, alla Val Marecchia 560 mila euro, a Rubicone e Mare 224 mila, alla Val Conca sono stati assegnati invece 120 mila euro. Con l'erogazione dei fondi 2017 si è chiuso il programma di riordino territoriale triennale. È stata una fase di sperimentazione avviata con un grande processo collaborativo tra tutti gli enti interessati, afferma l'assessora regionale al bilancio e riordino istituzionale Emma Petitti. Il nuovo programma riguarderà il triennio 2018-2020. Grazie a tutti.